I Lombardi non possono aspettare, non sappiamo ancora se e quando arriveranno i soldi del governo per imprese e lavoratori. Regione Lombardia invece con un accordo con il sistema bancario e di sindacati garantisce le risorse per l'anticipo della Cassa Integrazione. Entro una settimana fino a un milione di Lombardi potranno chiedere in banca la SENA. Soldi veri, se lo Stato non c'è garantiamo noi. In Lombardia parliamo con i fatti.